Una bella giornata per il comune di Tortoreto, finalmente apre sul Lungomare Sirena l'ufficio di accoglienza turistica. Sì, un progetto che abbiamo tanto atteso e voluto, che ha avuto un iter amministrativo lungo, ma che ci dà una grande soddisfazione perché con questa struttura, bella dal punto di vista estetico, ma soprattutto sostenibile e utile a tutte le funzionalità, daremo un servizio migliore che potenzieremo anche nei prossimi mesi. Sarà appunto destinata ad accogliere tutti i turisti che ovviamente vi aspettate per la nuova stagione. Noi ci auguriamo che saranno moltissimi come in passato, i segnali ce lo confermano e qui potranno avere un migliore servizio di accoglienza, potranno avere tutte le informazioni e perché no, se di passaggio anche prenotare perché tramite questo ufficio poi ci sarà un coordinamento anche con le strutture.